Tante cose, fra cui registrare, lavoro in questo studio di registrazione, L'Oriance Studio di Milano, dove collaboro come rimusicista. La Barboom Band, chi la segue è semplice di me, che è fatta proprio di persone particolari, quindi non rientra nei canoni della classica band o del classico autore-compositore che si presenti in uno studio e registra. La Barboom Band è molto particolare, ognuno di loro ha una storia, ognuno di loro ha dei demoni che lo segue. Se uno pensa che i testi come le musiche non sono scritti per fare cassetta o per fare hit parade, sono scritti per raccontare quello che è la Barboom Band e soprattutto le loro storie e tutto quello che viene da dentro. Sono testi apparentemente semplici, perché molte volte sono corti, sono pochi, ma rileggendoli e risentendoli una persona può trovare veramente tanta storia dentro, tanta storia e tante storie diverse, dalla disperazione all'immaginazione, alla voglia poi anche di riscatto comunque. Grazie. Grazie. Grazie.